Gentili telespettatori, buona giornata. Le incredibili giustificazioni della moglie Claudia Carbonara su il marito Walter Biot, arrestato per spionaggio dai carabinieri dei reparti operativi speciali che sono piombati durante la trattativa e il passaggio di 5.000 euro, 5.000 euro per aver passato documenti riguardanti gli armamenti della Nato, delle portaerei degli Stati Uniti, insomma documenti che potevano servire tra virgolette all'avversario per poter fare delle contromosse in caso di conflitto militare, insomma un fatto gravissimo. lui capitano di fregata, quindi un ufficiale della marina, comandante di una nave da guerra, arrestato per spionaggio. La moglie Claudia Carbonara dice ha deciso tutto da solo, se avessi saputo lo avrei dissuaso, siamo impoveriti, ci siamo impoveriti con il covid, con 3.000 euro al mese non campavamo più. 3.000 euro al mese, lo stipendio netto di un comandante di una nave da guerra, capitano di fregata. Mio marito non voleva fottere il paese, dice scusate la parola forte e non ha fatto neanche questa volta, ve l'assicuro, ai russi ha dato il minimo che poteva dare. Beh, insomma, niente di così compromettente, perché non è uno stupido, un irresponsabile, solo che era disperato, disperato per il futuro nostro e dei figli, e così ha fatto questa cosa. Insomma, avrebbe passato secondo la moglie dei documenti non compromettenti. Ma se lei non ne sapeva niente, come fa a sapere che i documenti non erano cronpromettenti, eh? Mi viene questo dubbio. Lei, la moglie, 54 anni, psicoterapeuta specializzata in sessuologia clinica, esperta di terapie individuali di coppia, è la moglie del capitano di fregata, arrestato dai ROS, reparti operativi speciali, a vendere segreti militari ai russi, in un parcheggio di Roma. Quando squilla il telefono nella loro casa di Pomezia, risponde subito la figlia più grande. La moglie è lì vicino, un attimo di situazione poi passa il telefono. La donna è confusa, si contraddice più volte, ma alla fine le risposte sembrano dimostrare fosse consapevole che il marito collaborava con i russi. E viene fatta questa prima domanda. Perché Biot era così disperato, dottoressa Carbonara? Guardi, io so che Walter era veramente in crisi da tempo, aveva paura di non riuscire più a fronteggiare le tante spese che abbiamo. L'economia di casa, a causa del covid ci siamo impoveriti, lo sa? Suo merito però non fa il ristoratore. Lavora allo stato maggiore della difesa, ha uno stipendio fisso, anche di buon livello. Si parla di 3.000 euro al mese. Dice sì, beh, 3.000 euro, ma non bastavano più per mandare avanti una famiglia con quattro figli e quattro cani. La casa di Pomezia è ancora tutta da pagare. 268.000 euro di mutuo, 1.200 al mese. E poi la scuola, l'attività fisica, le palestre dei figli a cui lui non voleva assolutamente che dovessero rinunciare. Ma durante il covid le palestre non sono chiuse? Vabbè. L'altra domanda dice, si è venduto per 5.000 euro? Dice, noi viviamo per i figli, abbiamo fatto sempre tanti sacrifici per loro, niente vizi, niente lussi, attenzione, solo la vita quotidiana che però a lungo andare fa sentire il suo peso. E secondo lei, dice il giornalista, questo giustifica la decisione di passare segreti militari ai russi. Guardi, se solo me ne avesse parlato ne avremmo discusso insieme, avrei provato a dissuaderlo. Invece ha deciso tutto da solo. Tutto da solo, è come dire, c'entro niente. Tutto da solo. È un giorno e mezzo che non lo vedo. Davvero è a regina cieli? Non riesco a parlarci, non riesco nemmeno a trovargli un avvocato. Tra i colleghi di suo marito si dice anche che fosse alla ricerca di denaro per curare la vostra bambina più fragile, tanto bisognosa di cure. È vero, lui è un padre meraviglioso, affettuoso, sempre presente. Ma no, la piccola per fortuna è tutelata, non era questo il problema economico più grande da fronteggiare. Allora qual era? Non riuscivamo ad andare avanti, a campare. I colleghi hanno detto anche di essere rimasti spiazzati, disorientati. Ma certo, lui per trent'anni c'è sempre stato, ha servito il paese, dalla marina alla difesa, a bordo delle navi come davanti a una scrivania. Walter si è sempre speso per la patria, lo ribadisce. Anche se ha fatto quello che ha fatto, sono sicuro che avrà pensato bene a non pregiudicare l'interesse nazionale. Non è uno stupido, lo ripeto. Ora cosa teme? Temo l'agonia mediatica soprattutto. Chi non lo conosce lo ha già condannato. Lo ha già crocifisso? Traditore della patria. No, a lui la patria l'ha servita. Cara signora, è un vile traditore del nostro paese. Dovrebbero dargli il massimo della pena consentita dalla legge, perché ha messo a repentaglio la sicurezza nazionale. Questo è un attentato alle istituzioni e alla sicurezza nazionale. Non ha passato qualche documento senza senso. E poi raccontare agli italiani che con 3.000 euro non si può vivere a Roma è, insomma, 3.000 euro, quattro figli, quattro cani. Beh, insomma, dire che non si può vivere perché c'hai anche quattro cani mi viene un po' da ridere. E poi quattro figli, insomma. Io dico, io ho sempre detto, se la situazione economica non lo permette, fate un figlio, fatene due, però farne tre, farne quattro, quattro figli. Naturalmente, quando si hanno quattro figli, tutti e quattro vanno a scuola, poi tutti e quattro vogliono il cellulare, a 18 anni tutti e quattro vogliono la macchina, vogliono andare, uscire la sera con gli amici tutti e quattro, e bisogna comprare i vestiti, i libri per la scuola, la gita scolastica, tutto moltiplicato per quattro. Insomma, bisogna pensarci prima alle cose, e poi lui comunque 3.000 euro al mese, ma la moglie? La moglie come con 3.000 euro al mese? La moglie non lavora? La moglie non lavora come medico in ospedale, non ha uno studio? Non lo so. È solo lo stipendio del marito? Molti potranno dire ma con quattro figli la moglie non può lavorare. Insomma, capisco che più figli fai, poi deve lavorare una sola persona perché l'altra deve curare i figli. Sono scelte, sono scelte. Probabilmente la moglie, io adesso parlo così, probabilmente la moglie magari se solo avessero avuto due figli, poteva lavorare, magari non erano 3.000, magari erano 5.000 al mese con due figli, il mutuo della casa 1.200 euro al mese, insomma, ma il mutuo 1.200 euro al mese, capisco che le case a Roma sono costose, però non è obbligatorio avere il mutuo. diciamo che le giustificazioni non reggono, non reggono, non reggono. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.